L'inserimento di Terni tra le dieci città candidate al titolo di Capitale Italiana della Cultura è un riconoscimento del lavoro svolto in questi anni, non soltanto dall'amministrazione comunale, ovviamente non soltanto dalla giunta di cui faccio parte, ma anche dalle amministrazioni precedenti, dalle giunte precedenti e dalla città nel suo complesso. Questo riconoscimento, questa opportunità è un'opportunità alla quale penso che la città debba credere perché è il riconoscimento al lavoro, all'attività, agli investimenti, alle scelte fatte dalla città in questi anni. Non tutte queste scelte hanno conseguito i risultati che ci si aspettava, ci sono delle criticità, ci sono degli elementi che ci costringono a lavorare, a migliorare, però abbiamo le risorse, abbiamo la capacità, abbiamo la storia per giocare questa partita. Si tratta di capire bene che cosa significa Capitale Italiana della Cultura, Capitale Italiana della Cultura non è il riconoscimento, non è un Oscar alla storia culturale di una città, è invece l'invito a investire, a progettare investimenti in cultura per far crescere la città, per far crescere le opportunità di questa città, per disegnare un percorso di sviluppo nuovo. Grazie.